amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi siamo all'interno di questa vettura che purtroppo non è mia ed è un cliente particolare che ce l'ha portata per fare alcuni lavori uscirà un video dedicato proprio a questa vettura veramente straordinaria la mercedes gts vettura incredibile ma il video di oggi non riguarda questa in particolare questa vettura quanto il fatto di fare un aggiornamento così come avevo promesso sul discorso delle di che cosa cambierà nelle normative e nelle procedure di revisione dal 2024 dal primo febbraio 2024 in avanti abbiamo fatto una prima puntata che net in onda è stata seguita veramente in maniera incredibile ci avete fatto tanti commenti e sulla base di questi commenti abbiamo deciso di fare abbiamo preso le informazioni ulteriori e abbiamo deciso di fare un aggiornamento in maniera tale da con questo aggiornamento da dare un'informazione completa cosa che non era stata fatta nella nella prima puntata perché ci mancavano ovviamente dei dati avevo appunto detto ben chiaramente che avrei dovuto recuperare gli ultimi dati per avere una situazione completa in sostanza quello che volevo dire è rassicurare tutti i nostri clienti che a livello di elaborazioni soprattutto per quanto riguarda rimappature centraline e anche il discorso del del fap che avevo lasciato con un dubbio aperto nella precedente puntata di non preoccuparvi quindi in sostanza non è che cambierà un gran che a livello di lavori che diciamo ci interessano in maniera specifica cioè le modifiche sulle auto di qualunque genere così come se passavano prima passeranno anche adesso quindi non non incide in maniera minima sul lavoro che facciamo quello che quindi questo è già un dato di fatto che volevo tranquillizzare tutti i nostri clienti perché ho avuto veramente tantissimi che mi hanno scritto dicendo oddio adesso non si potranno più fare le centraline oddio col discorso fa per come faccio tranquilli che andiamo avanti esattamente come prima quello che in sostanza cambia sono degli aspetti positivi quindi queste nuove normative partendo dal concetto da quello che abbiamo saputo il prezzo delle revisioni per il momento non cambiano anche perché l'ultimo aumento l'hanno fatto abbastanza di recente quindi non cambiano i prezzi delle revisione anche queste nuove parecchiature delle quali si dovranno adottare le officine diciamo e si accolleranno loro poi c'è un prezzo stabilito dal ministero dalla motorizzazione e quello è quindi non è che le officine possono chiedere più soldi di quelli il costo delle revisioni grosso modo è standard in tutta italia presso tutte le officine detto questo come dicevo gli aspetti sono più gli aspetti positivi che non gli aspetti negativi primo è soprattutto una delle prerogative di questa nuova attrezzatura che utilizzeranno le officine che faranno la revisione sarà quello di controllare il chilometraggio in base ai consumi il chilometraggio reale delle macchine e soprattutto la congruità del numero di telaio quindi questo è secondo me un aspetto finalmente positivo da paese civile perché da noi purtroppo fino a ieri mattina diciamo vigeva questa questa procedura fatta da gente non del tutto onesta per cui mettevano in vendita delle vetture abbassando i chilometri cioè noi abbiamo visto delle macchine che ipoteticamente il cliente pensava di aver acquistato con 50 mila chilometri e magari ne ha fatti 150 mila quindi questa è una veramente una procedura di una scorrettezza incredibile e diciamo che a livello di casistica era molto più grande questo problema di quello che anche noi potevamo immaginarci quindi il fatto di bloccare o quantomeno il cercare di bloccare questa procedura secondo me come dicevo prima fa parte di uno stato civile cioè se uno va in Germania o in Svizzera o in Francia dubito che esistano macchine con questo tipo di problematiche perché loro già anni prima hanno adottato dei sistemi di controllo per cui macchine con diciamo non vedete laio taroccati chilometri scalate non non ne circolano in quei paesi lì perché noi in italia dobbiamo trovarci dove della gente perché non può verificarlo non ha gli strumenti per verificare che vengano diciamo scalati chilometri perché devono prendersi le fregature cioè una macchina che ha 50 mila chilometri ben diverso dalla macchina che ne ha 150 mila se il cliente fosse a conoscenza che una 150 mila con molta probabilità non avrebbe comprato quella macchina ne avrebbe comprato un'altra quindi in sostanza questo è il primo aspetto l'altro aspetto che non c'entra niente sempre col discorso delle modifiche che noi facciamo questo questa attrezzatura è un attrezzatura che va attraverso l'apporto bd a interfacciarsi con quelli che sono diciamo i codici errore diciamo a livello di diagnosi essendo un attrezzatura generica perché non può essere un attrezzatura specifica audi bmw quant'altro il fatto che vi ho detto prima di stare tranquilli perché non possono in nessun modo essendo un attrezzatura generica non può in nessun modo entrare e verificare che diciamo la centralina di gestione motore sia stata modificata allo stesso allo stesso modo all'interno della centralina motore quando diciamo vengono modificati viene modificato il fap qui si mette fap off piuttosto che ad blue piuttosto che egr anche in questo caso lo si può rilevare solo esclusivamente con un sistema di diagnosi specifico di quella macchina per cui mercedes quando uno porta la vettura in certa assistenza se ne accorgono perché perché loro con la loro diagnosi riescono a rilevare appunto queste differenze sul sulla parte elettronica così come lo è per bmw audi mini sappiamo perfettamente che tutte queste case in maniera automatica cioè sono neanche neanche più in maniera casuale ma in maniera automatica quando uno porta per dire non so la mini piuttosto che la bmw in assistenza mettono le chiavi nello slot dalle chiavi loro riescono a verificare che la macchina non è stata alterata a livello elettronico ma questo nei centri di diciamo di assistenza ufficiali tant'è vero che noi per quanto riguarda come abbiamo spiegato tante volte se uno vuole a sua discrezione aumentare la potenza della macchina se la macchina è in garanzia proponiamo sempre una centralina esterna riprogrammabile perché fare una serial cioè modificare quello che l'elettronica della macchina cioè della centralina principale di questa vettura metteremmo il cliente automaticamente una situazione critica per cui la prima volta che va in assistenza questi gli contestano la garanzia della macchina non è una cosa saggia per cui per completare il quadro con questa attrezzatura verranno rilevati unicamente quelli che sono i codici errori anche in questo caso riteniamo sia una cosa positiva cioè il fatto di limitare la circolazione a macchine che hanno problemi diciamo meccanici che vengono evidenziate dalla spia della spia motore è una cosa dal mio punto di vista estremamente positiva per cui tutto quello che sono le problematiche legate all'accensione della spia dovete per forza di cose risolverle prima di portare la macchina in a fare la revisione ministeriale detto questo ripeto al di là di questi due aspetti che vanno implementare la procedura che c'era prima non c'è nessun altro tipo di differenza quindi direi assolutamente dal mio punto di vista è un passo in avanti e non certo un passo indietro io direi che dopo questa rassicurazione proprio tutti coloro che hanno la nostra stessa passione cioè il fatto di ottimizzare quelle sono le prestazioni della macchina come ho detto all'inizio ribadisco il concetto non preoccupatevi quello che c'era prima c'è adesso quindi non c'è nessuna diciamo nessun aspetto che può mettere in crisi questo questo tipo di discorso io direi se avete delle domande come avete fatto precedentemente chiamatemi in ufficio vi darò o mi mandate o rispondete a questa a questo video io vi darò tutte le informazioni che delle quali voi avete bisogno per il momento è tutto cliccate sulla campanella in destra soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo soprattutto per diciamo magari informazioni divulgative come quelle che vi ho proposto adesso primamente tutto un saluto alla prossima